La voce di Leonardo Di Caprio a sostegno di questa importante iniziativa. Sì, è qualche anno che ho avuto il piacere di conoscere il dottor Fabio Massimo a Benavoli che mi ha coinvolto in questa splendida operazione Emergenza Sorrisi e non mi sono potuto tirare indietro. Questa è la dimostrazione che tutti possiamo partecipare a questo genere di manifestazioni e di operazioni ognuno dando il proprio contributo con la professionalità e a me hanno chiesto la voce. Spero funzioni. Abbiamo fatto delle campagne anche con Radio DJ perché ho il piacere di collaborare con il Trio Medusa e poi sono la voce della radio e quindi mi propongo sempre queste iniziative. Quindi il messaggio è anche quello di una maggiore informazione sia sull'attività che fa il professore Benavoli e la sua equipe sia sull'importanza di andare a formare i medici che partono in missione. Sì, fondamentalmente la visibilità è tutto alla fine in queste operazioni e magari Fabio è rimasto attratto dall'idea di avere un testimone a livello vocale che avesse una riconoscibilità e in questo caso Di Caprio che presta interposta persona alla voce all'operazione di Emergenza Sorrisi. Grazie.